Questa! Vieni! Perché? Eton! 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 Aspetta Sono stufa di aspettare Sono stufa di Aspetta 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 Grazie. 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 Guarda bene. Cosa? Perché? Ti devi ricordare. Così poi saremo una famiglia. Grazie. Alan, stai peggiorando. Deve avermi infettato nell'attacco. Ormai è troppo tardi. Ma in fondo è colpa mia. Se si è liberata. Sì, è colpa tua. Ma non ti lascerò morire così. E perché non ti ha aggredito? È parte del suo protocollo di imprinting. Non possono averlo realizzato. Prendi. Contiene campione di tessuto. Trovano. Sistema tutto. Dai su, Eevee. Dove sei? Sistema tutto. Dio. Se... Ha. Lonti. Sì, sì. È vicina. Sì, sì. Sta vomitando. Devo resettarlo. Com'è la situazione? Sta vomitando. Molto più della sua massa corporea. Grandioso. Se continua così, ne vedremo molti altri dei suoi brutti amichetti. Ok, dobbiamo trovarla immediatamente. La situazione ci sta scappando di mano. Sono d'accordo. Sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Dannazione. Alan, Alan, dove diavolo sei? Alan, dove diavolo sei? Alan, dove? 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 Alan, dove?